Il Demeiser Italiana si estende su un'area di 54.000 metri quadri, producendo dagli anni 60 torni automatici plurimandrino, a Fantina Mobile e a Torretta, e offrendo allestimenti personalizzati per ciascun cliente. I nostri impianti si sviluppano dunque intorno al pezzo, allo scopo di ottimizzare il tempo ciclo e di raggiungere elevate produttività unite agli alti standard qualitativi. Oltre 200 dipendenti e una capacità produttiva di circa 500 macchine l'anno. Questi sono alcuni numeri di una struttura di successo e soprattutto proiettata al futuro. La piattaforma NZI, le macchine Sprint, Multisprint ed LNLX sono le serie di punta del nostro stabilimento. Le presse delle splendide mura della città di Bergamo, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il gruppo di MG Mori si propone come partner globale nel mercato delle macchine utensili, grazie agli stabilimenti produttivi all'avanguardia. In Ville Master Italiana siamo specializzati nella produzione per il mercato nazionale ed internazionale. Coinvolti direttamente, i clienti ricevono le migliori soluzioni tecniche, complete e su misura, grazie a servizi dedicati che si concentrano sull'intero ciclo di vita della macchina. I clienti possono venire direttamente in stabilimento per visionare i vari step e per effettuare il pre-collaudo prima della spedizione. Il tutto eseguito dal nostro personale specializzato locale. Gli MG Mori supporta i propri clienti con soluzioni integrate e innovative dei propri servizi di digitalizzazione. Anche noi abbiamo lo stesso obiettivo, ottimizzare il processo di produzione. Lo stiamo facendo attraverso soluzioni digitali in grado di interconnettere i vari reparti per renderlo più efficiente. Il sistema TULIP è stato implementato proprio in questa ottica. È uno strumento digitale semplice e creativo con cui è possibile realizzare un percorso interattivo. Questo accompagna l'utente nello svolgimento del lavoro guidandolo passo passo nell'esecuzione del processo. DMG Mori offre ai propri clienti un service completo. Assistenza Outline sempre a disposizione. Servizio riparazioni e particolari di ricambio direttamente dal produttore forniti da un unico magazzino centralizzato. L'utilizzo gratuito del portale online MyDMG Mori assicura un supporto più rapido in caso di richieste di assistenza. Uno strumento che garantisce ottimizzazione nella gestione e risparmio di tempo prezioso. Di The Maester italiana sarà sempre disponibile ad offrire la propria competenza e professionalità al servizio del cliente. di The Maester italiana sarà sempre disponibile La sua vita è la sua vita. 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 Grazie a tutti.